Ciao, sono Schipotto. Intanto volevo scusarmi per la mia assenza e la distanza tra questo e l'ultimo video perché tra esami e altri impegni purtroppo non sono riuscito a stare molto dietro al panorama di YouTube, anche se ho cercato di interagire con tutti voi tramite commenti o altro, però non sono riuscito a mettermi a lavorare su nuovi video. E visto che dall'ultimo video di Guild Wars molti di voi avevano chiesto un video appunto su quella che era la storia di Guild Wars, ho deciso di, oltre alle varie full immersion di studio che ho dovuto fare, di fare una full immersion anche su quella che era la storia di Guild Wars. E lo ritengo comunque interessante perché nonostante io avessi finito la storia e alcune della storia delle espansioni, non avevo ancora ben capito le ragioni e perché di molte cose che erano successe all'interno appunto della storia stessa. Però prima di iniziare a parlare della storia del nostro eroe, del nostro personaggio all'interno di Guild Wars 2, ci sono dei piccoli elementi da chiarire che aiuteranno sicuramente a comprendere molto meglio quello che succede e quale sarà appunto il peso delle vostre reazioni all'interno della storia. La storia di Guild Wars si svolge all'interno del mondo di Tyria e più specificatamente all'interno del continente dello stesso nome. Lo so, grande fantasia da parte degli sviluppatori, però anche il continente stesso si chiama Tyria. Però per prima poter parlare della storia di questo mondo e di questo continente, dobbiamo prima parlare delle tre grandi fazioni o comunque dei tre grandi gruppi che influenzano di più e cambiano di più il mondo che si trova di fronte ai nostri occhi. Il primo è quello dei draghi antichi o gli Elder's Dragon come vengono riferiti all'interno del gioco. Sono le creature più antiche di cui abbiamo conoscenza all'interno di Tyria e potremmo dire che sono le rappresentazioni fisiche della magia stessa che tiene insieme il mondo di Tyria. E ognuno di questi draghi antichi rappresenta un aspetto differente della magia. Per ora di quello che sappiamo c'è quello del fuoco, quello del ghiaccio, quello della morte e delle ombre, quello del cristallo e quello delle piante e della mente. Ce n'è uno che dovrebbe essere dell'acqua, però per ora non sappiamo né il suo nome né che aspetto abbia, sappiamo soltanto che vive nei fondali dell'oceano senza fine. Quindi tutto il resto che sappiamo su quel drago è pura supposizione. Un'altra fazione abbastanza importante è quella delle divinità degli esseri umani. Sono appunto delle divinità di cui non si sa bene l'origine che però hanno guidato gli esseri umani all'interno del mondo di Tyria e hanno dato a tutte le razze del mondo di Tyria il dono della magia nel primo posto, che comunque ha portato a gravi conseguenze e anche alla rimozione di gran parte di questo dono, però questo è un argomento per un altro video. Lo stesso sono creature molto potenti, ma sappiamo anche che è possibile che loro, tra virgolette, vengano cacciate via dalle altre divinità e possiamo avere, tra virgolette, alcune divinità bandite ed è possibile per una persona ascendere al ruolo di divinità, se le divinità così scelgono. E alla fine potremmo dire che abbiamo il resto della popolazione o comunque delle razze di Tyria, diciamo la gente comune o comunque le persone o charo silvari comuni delle varie razze giocabili e non che popolano l'intero continente o comunque l'intero mondo, che inizialmente vengono considerate abbastanza insignificanti, soprattutto dal punto di vista dei draghi antichi, ma come vedremo con lo sviluppo della storia, faranno un'influenza molto più grande di quanto anticipato sull'intero mondo di Tyria. Ora che abbiamo descritto quali sono le forze in gioco, possiamo un attimo a grandi linee parlare anche di quali sono stati gli avvenimenti che hanno portato alla situazione attuale di quando noi iniziamo a giocare all'interno del mondo di Tyria. Come ho detto prima, le divinità furono quelle che diedero appunto il dono della magia alla popolazione e a tutte le razze del mondo di Tyria, però accorgendosi di quante guerre questo dono avesse scatenato, della pericolosità di questo dono, decisero di sigillare gran parte della magia, anche se non tutta, all'interno del vulcano, o comunque dell'insieme di vulcani di Ring of Fire, o cerchio di fuoco in italiano, senza sapere che comunque era uno dei luoghi di sonno di uno dei draghi antichi. In ogni caso, le divinità almeno quasi tutte erano d'accordo con la rimozione di questo dono, tranne Abaddon che credeva che il dono potesse essere usato dalle civiltà come meglio preferivano e a cui sembrava ingiusto che questo grodono, comunque la gran parte del dono della magia, venisse rimosso. Dopo varie discussioni con le altre divinità, Abaddon venne bandito e rinchiuso in quello che viene definito il reame del tormento, che fa parte delle nebbie o delle mist, come vengono chiamate all'interno del gioco, che è praticamente, diciamo, la dimensione più spirituale all'interno dell'universo della Lorde Guild Wars, è un universo, una dimensione a parte, che funge sia da casa per le divinità e anche, tra virgolette, come inferno e paradiso appunto di quello che è l'universo di Guild Wars in sé. E questa sembrava la fine della storia, almeno per adesso. Nel mentre, le civiltà crescevano e diventavano più potenti e si crearono tre grandi regni umani, Krita, Ascalon e Orr, che veniva considerato il regno sacro, e dove fu fatta attualmente la richiesta, comunque, venne implorato appunto alla divinità che questo dono della magia fosse rimosso per le grandi quantità di sangue che aveva creato. Con l'andare avanti del tempo, questi tre regni umani però iniziarono ad avere varie battaglie tra di loro, soprattutto le battaglie si tenevano tra varie gilde umane diverse che avevano conflitti tra loro. Da questo arriva il nome Guild Wars, appunto, sono le guerre tra le varie gilde, che però stavano lentamente scalando in un conflitto più grande. E le relazioni tra i tre regni si inasperirono parecchio, iniziando a provocare battaglie e guerre più grandi. A est di quello che era il regno di Ascalon, sorgeva il regno dei Char. Un'altra razza, dall'aspetto felino, è molto più fisicamente, molto più forte e dominante di quelli che erano gli esseri umani, e con una cultura molto portata alla guerra. E approfittando della situazione, iniziano i loro conflitti con il regno di Ascalon, per, appunto, sterminare quelli che erano gli esseri umani. Gran parte degli avvenimenti di questa guerra si svolsero, appunto, all'interno del primo Guild Wars, di cui non parlerò adesso perché il video probabilmente è già lungo e con questo lo allungherei soltanto ulteriormente. Vi basti sapere che, alla fine di questi conflitti, i Char riuscirono ad uscirne vincitori e, praticamente, divisero quella che era il regno di Ascalon e costruisero, praticamente, gli esseri umani a scappare. Durante i vari avvenimenti, il regno di Krita si era offerto di aiutare, appunto, il regno di Ascalon e molti esseri umani accettarono il loro aiuto e andarono a trasferirsi, appunto, nel regno di Krita e questo diede origine a quella che è la moderna di Vanity's Reach, che è una capitale, un rifugio per tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro passato, comunque, dalla loro provenienza. E il regno di Krita, per motivi geografici e anche per il fatto che nel mezzo tra Ascalon e Krita si trovino le due razze dei Norn e dei Nani, che comunque erano abbastanza neutrali a questo conflitto, si trovava in una posizione molto migliore per difendere, appunto, i suoi confini e in una posizione molto migliore per non essere attaccate. Ma questo non fu il destino del regno di Orr, che, piuttosto di vedere la sua città sacra, la sua città santa dedicata alle divinità calpestata dai Char, decise di affondare l'intero regno a insaputa dei cittadini, uccidendo migliaia e migliaia di esseri umani, praticamente, facendo affondare tutta l'isola di Orr per, appunto, salvare da quella che era l'impurità considerata da loro da dei Char ed evitare che il loro regno venisse conquistato. Questi punti, appunto, ci spiegano oltre che l'origine del nome di Gildor's, appunto, anche qual è la situazione un attimo politica prima di quelli che sono gli avvenimenti all'interno di Gildor's Duga. Nel mezzo ci sono gli avvenimenti di quello che è Gildor's Nightfall e, come vi ricordate prima, abbiamo parlato della divinità Abaddon che, però, non era molto contenta della sua posizione e quindi cercava di tornare al potere e, costruendo un esercito all'interno di quello che era il regno del tormento, cerca, appunto, di riprendere il suo controllo sul mondo e di rispargere tutta la magia che era stata sigillata all'interno del mondo. Questo, ovviamente, portò anche a un conflitto in cui intervennero anche le divinità e, con aiuto degli esseri umani, alla fine si riuscì ad uccidere Abaddon e ad avere l'ascesa della nuova divinità, Cormir. Quando Abaddon venne ucciso, gran parte della sua magia si sparse, praticamente per tutto il regno di Tyria, e non fu tanto la quantità di magia che si sparse, ma il picco dell'esplosione magica provocata dalla sua morte iniziò a susseguirsi di eventi di quello che venne definito e verrà definito il risveglio, che, appunto, fu il risveglio dei draghi antichi a partire dal drago Primordius che si trovava, appunto, nella zona del cerchio di fuoco, proprio al di sotto della magia che era stata sigillata molto e molto tempo fa. E così, uno a uno, i vari draghi antichi iniziarono a risvegliarsi con conseguenze catastrofiche. Il primo fu Primordius che iniziò a mandare i suoi destroyer e tutte le sue creature di fuoco a cercare di invadere il regno di Tyria attraverso i sotterrani. E questo costrinse i nani, praticamente, a sacrificare una buona parte del loro popolo a cui si era stato effettuato un antico rituale per permettergli di combattere all'infinito contro le creature sotterranee di Primordius. Il secondo fu il drago acquatico di cui ancora non sappiamo il nome, che, comunque, vive nell'oceano senza fine. Questo portò all'uscia, al, praticamente, l'arrivo in superficie dei Carca e dei Quaggan che scapparono da quella che era la situazione nelle profondità marine, provocando comunque un disequilibrio all'interno di tutto il continente e di tutte le coste del continente di Tyria. Successivamente, Jormag, il drago di ghiaccio, si risvegliò che col suo risveglio provocò una tempesta di ghiaccio che durò quattro anni, che constrinse l'intera razza dei Nord a cercare casa più a sud e muoversi dalla loro regione di origine per evitare di essere uccisa, appunto, dall'ira del drago. Dopo fu il turno del drago Zaitan, il drago della morte, che decise di riportare a galla l'intera isola e l'integra regione di Orr. Oltre che riportarla a galla, inoltre, con tutti i cadaveri e tutti, appunto, i resti delle persone che erano morte in quella che era stata la magia, l'esplosione che aveva fondato Orr, diventarono praticamente il suo esercito di non morti. E appunto, il ritorno a galla di Orr provocò un'inondazione che distrusse Lion's Arch e costrinse la razza umana a scegliere una nuova città come capitale. E solo un anno dopo si risvegliò Kral Katorik, il drago di cristallo, che in un solo volo praticamente cristallizzò l'intera zona che va da Ascanon fino al deserto di cristallo, trasformando tutti gli esseri viventi all'interno in branded o comunque esseri di cristallo dominati dal suo volere. E questo costrinse praticamente anche i Char a spostarsi dal loro luogo d'origine, il loro luogo natio, in quello che ormai era il vecchio regno, la vecchia capitale conquistata degli esseri umani fondando la Black Citadel e la loro nuova capitale. E affrontando centinaia di anni di storia siamo arrivati letteralmente a qualche anno prima dell'inizio della storia di Guild Wars 2, con appunto vent'anni prima del risveglio di Kral Katorik anche la nascita della nuova razza che erano i Silvari, una delle razze giocabili all'interno di Guild Wars 2, nate da questo gigantesco albero chiamato l'Albero Pallido e praticamente da questo sogno all'interno di questo albero che continua a generare Silvari, dandogli appunto quello che è un obiettivo nella loro vita. Ora abbiamo citato una buona parte delle razze, abbiamo già chiarito cosa sono i Char e ovviamente gli esseri umani. I Norn sono stati citati e onestamente li descriverei come struttura fisica praticamente a degli esseri umani più grandi, dovrebbero essere ispirati a praticamente dei Nordici, però sono appunto una razza totalmente differente. Infine abbiamo gli Asura che sono dei piccoli nanetti che vivevano nelle profondità terrene e che sono una razza tecnologicamente molto sviluppata, che sono in grado di costruire golem e sistemi di tecnologia molto più avanzata rispetto a tutto quello che si trova nel resto del mondo di Tyria che è più a un'epoca diciamo steampunk o comunque all'età del vapore. E ora finalmente dopo centinaia di anni di storie possiamo arrivare a quella che è la storia del vostro personaggio. Ma prima di continuare col video volevo fare qualche piccolo avvertimento di spoiler per quanto riguarda la storia di base del gioco perché ovviamente copro nella prossima parte del video tutta la storia di base. E se appunto non volete alcun elemento della storia spoilerato potete tranquillamente saltare a questa parte del video che sarà più o meno la fine dove farò qualche piccolo annuncio. E all'interno del video farò anche un altro piccolo avviso di spoiler per quella che è la fine, il finale diciamo della storia del vostro personaggio. Quindi se volete sentire della prima parte o se avete già affrontato una buona parte tipo metà della storia potete tranquillamente ascoltare fino a quel punto e alla fine del video farò qualche piccolo annuncio e anche vi darò qualche piccolo consiglio su siti di lore da poter visitare. E continuiamo con la storia. Guild Wars vi fa fare diverse scelte all'interno della storia a partire dalla razza che sceglierete e all'interno di questa razza una fazione. In base alle scelte che effettuerete per quanto la storia abbia un obiettivo, un fino comune la storia sarà lievemente, si diciamo si svolgerà in modo lievemente diverso e anche appunto alcuni elementi che cambieranno saranno gli approcci con cui affonderete vari dei conflitti che ci saranno all'interno della storia. Inizialmente voi partite affrontando quello che è il vostro presente e il vostro passato. In base alla fazione e la vostra storia che sceglierete nella prima missione verrete introdotti a quella che sarà tra virgolette la vostra guida o il vostro mentore, uno degli ex membri di Destiny's Edge e nella seconda missione della storia appunto affronterete alcuni elementi del vostro passato. Prima di continuare appunto vorrei un attimo fermarmi su quella che è Destiny's Edge che all'interno della storia di Guild Wars 2 è appunto una gilda molto famosa oltre perché aveva combattenti molto forti all'interno anche perché aveva membri di ogni razza principale all'interno di Guild Wars quindi abbiamo membri di tutte le razze giocabili praticamente del gioco all'interno di questa Destiny's Edge e la loro impresa era quella di sconfiggere e uccidere il drago Kralcatorik che purtroppo fallì e portò alla morte del drago Glint che era un nostro alleato come scopriremo più avanti nella storia e alla morte di Snuff uno dei membri di Destiny's Edge. Questi avvenimenti portarono successivamente allo scioglimento della gilda e ognuno dei membri della gilda tornò alla propria capitale di razza d'origine ovviamente erano combattenti molto importanti quindi coprirono ruoli politici molto importanti rispettivamente in tutte le capitali della propria razza e in base alla razza che sceglieremo incontreremo uno dei membri appunto di questa gilda che ci farà da guida verso quelli che saranno gli avvenimenti della storia. Comunque dopo aver concluso praticamente la sezione introduttiva che riguardava il nostro passato iniziamo ad affrontare quella che è la minaccia più grande quella dei draghi antichi. Inizialmente verremo introdotti ai tre ordini che si hanno come obiettivo appunto quello di difendere il mondo dei draghi antichi. Abbiamo la Durman Priory che sarà praticamente l'ordine che utilizzerà la conoscenza e lo studio praticamente storico degli avvenimenti per affrontare i vari conflitti. avremo l'order of whisper che userà un approccio più riservato e tra virgolette nascosto agli occhi di tutti per affrontare la situazione e alla fine avremo i vigil che è l'ordine militare che decide di affrontare le cose in modo un pochino più diretto e alla fine di questo capitolo della storia praticamente verremo indirizzati appunto a iniziare a far parte di uno di questi tre ordini che influenzeranno come affronteremo appunto i conflitti della storia d'ora in poi. Successivamente sperimenteremo il primo incontro tra o la prima riunione dei membri dell'ormai sciolta Destiny's Edge che purtroppo non andrà molto bene però scopriremo e sperimenteremo in una storia parallela che si svolge all'interno dei dungeon di Guild Wars 2 gli avvenimenti che porteranno al riappacificamento di quella che è appunto Destiny's Edge per i conflitti avvenire. Dopo che avremo sperimentato diciamo la vita all'interno di uno di vari ordini e appunto l'approccio che loro utilizzano nella battaglia verremo a scoprire appunto come Zaitan il drago della morte voglia attaccare la capitale indipendente di Lion's Arch e inizieremo a correre le armi per appunto fermare questo imminente attacco da parte di Zaitan. E qua arriviamo in territorio di spoiler per quello che è diciamo quello che inizia ad essere il percorso verso la parte finale della storia della storia di base del gioco di Guild Wars 2 quindi se non volete sapere tra virgolette quello che è il finale o come prosegue la storia d'ora in poi potete tranquillamente chiudere il video qui e continuare una volta che avete finito di vivere la storia per conto vostro. Per gli altri ovviamente possiamo continuare a parlare un attimo del finale in cui la battaglia si svolge a Claw Island dove con grandi sacrifici e tante morti riusciamo a proteggere Lion's Arch da quella che l'invasione dei sottoposti di Zaitan guidati dal drago Tekal il primo appunto dei sottoposti di Zat e bloccata la loro invasione col capitolo successivo praticamente riusciremo a riconquistare Claw Island con sempre tanta fatica e a cacciare Tekal e i non morti di Zaitan della zona e decideremo appunto di portare la guerra appunto da Zaitan costruendo praticamente il nostro accampamento vicino a Or e scoprendo man mano quali sono i punti deboli di Zaitan all'interno di Or per poi alla fine lanciare con tutte le navi un attacco verso Zaitan e venire salvati da Logan Cracker in uno dei membri di Destiny's Edge che ormai sembrava perduto tra virgolette o che comunque non volesse venire in nostro aiuto per poi poter portare fine a quella che era la vita di Zaitan e alla morte del primo drago antico scoprendo che appunto non erano creature immortali ma potevano essere uccise senza però ancora sapere quelle che sono e sarebbero state le conseguenze di questo e della morte di un drago antico e di come avrebbero plasmato il futuro dell'intero mondo di Tyria da questo evento in poi ed eccoci alla fine del video allora lo so che il video era un po lungo però purtroppo farlo più breve era un po impossibile per cercare di dare un senso a quelli che erano gli avvenimenti che si svolgono durante la storia e onestamente questi sono i fatti che i fatti che ho elencato sono gli eventi che diciamo mi hanno fatto comprendere al meglio il perché tra virgolette le ragioni per le quali facciamo le cose che facciamo all'interno della storia e quali sono le ramificazioni appunto le conseguenze delle nostre azioni all'interno di questa storia e che saranno le conseguenze all'interno degli avvenimenti delle espansioni di cui tratterò in altri video perché sennò questo video sarebbe durato secoli e per chi non se ne fosse accorto il video era già molto tra virgolette riassuntivo e vago su tanti elementi perché ho precisamente scelto di saltare tante cose di sorvolare velocissimamente su molte perché sennò il video sarebbe stato estremamente più lungo e ho deciso di tenere le informazioni che tra virgolette danno un'idea del perché degli avvenimenti non ho parlato del fatto che gli esseri umani di tira fossero alieni o di come di tutto il processo delle bloodshard o di come è stata sigillata appunto la magia e tutto il re cioè ci sarebbe tante altre cose di cui parlare di cui sarei contento di fare altri video però questo voleva essere un pochino un'introduzione per dare un concetto più chiaro del e far comprendere la storia e perché appunto l'affrontiamo in quel modo ai nuovi giocatori o comunque alle persone che hanno affrontato la storia ma come me all'inizio non ho ben capito il perché e per come stessimo affrontando chi stiamo affrontando per non fare spoiler a chi non ha ancora giocato tutta la storia comunque tra gli annunci che volevo fare volevo annunciare che ho finalmente aperto una gilda in cui tutti quanti siete invitati si chiama cut squad la squadra dei gatti squad dei gatti come volete una gilda per amanti dei gatti ma anche dei cani potete tranquillamente unirvi metterò in sovraimpressione il mio nome con i numerini vari così potrete aggiungermi agli amici so che schipotto però non mi ricorda a memoria i numeri quindi lo metterò lo scriverò adesso qua sopra e potete tranquillamente unirvi alla gilda se volete giocare in compagnia e per qualche strano motivo giocare con me non è necessario che siate veterane o un altro se potete anche iniziare a giocare letteralmente oggi quando vedete questo video e aggiungermi non ho senza nessun problema non pretendo di essere una gilda troppo elitaria comunque sì se volete potete tranquillamente unirvi e due volevo anche citarvi se cercate elementi più specifici prima che io appunto affronti magari faccia altri video riguardo l'argomento comunque le fronti c'è un ottimo sito che è ggv2 che praticamente un ottimo blog che tratta della storia di guild wars in modo molto accurato con anche i tempi di lettura e tutte le altre cose fatto in modo molto carino onestamente è diciamo una bella lettura soprattutto se volete iniziare a cimentarvi nella storia non affronta ancora la storia del vostro personaggio però è un ottimo modo per avere diciamo un background di tutte le cose successe prima e è un progetto che sta proseguendo bene secondo la mia opinione quindi vi consiglio di visitare anche quello link in descrizione e ditemi se volete altri video di loro o altri argomenti in generale possibilmente i prossimi video saranno magari qualche guida per dopo tornare un altro video di loro perché è complicata però sì se siete interessati scrivetemi nei commenti le vostre opinioni cosa ne pensate e noi ci vediamo in un prossimo video ciao